Albano Polinelli è uno degli artisti che espongono il progetto di More Aspoltore Ensemble 40esima edizione, ma soprattutto è la memoria storica per quello che riguarda la nascita di questo festival. Eh sì, in effetti abbiamo lavorato molto negli anni passati qui. Quest'anno io partecipo con alcune mie opere a questo progetto di More e devo dire che è una cosa molto interessante, anche perché mancando degli spazi dove poter esporre creare un'esposizione interessante, ricca di artisti qualificati, hanno pensato bene a recuperare questi spazi, quindi questi spazi così dalle dimore del paese, del borgo. E devo dire che è uscita fuori una cosa molto interessante e brillante, perché ci sono degli artisti interessanti, poi con delle opere anche sulle piazze, c'è Dino Colarongo con un'opera molto bella in una piazza, quindi ci sono delle installazioni importanti. E insomma è uscita fuori in fondo una cosa molto molto delicata, ma molto bella. Con noi c'è Maria Genì Rossi, allora parliamo un po' del vostro sforzo organizzativo per questa quarantesima edizione di Spoltore Ensemble. Allora, questi luoghi suggeriscono automaticamente l'accoglienza di opere d'arte in quanto sono luoghi di grande qualità storica, spazi e ambienti straordinari in cui l'arte reciprocamente si esalta e quindi il luogo stesso ha suggerito e ci ha invitato ad organizzare queste mostre in luoghi diversi, in base alle tipologie anche delle opere è stato scelto il luogo. Sono luoghi spesso chiusi, non accessibili al pubblico perché spazi privati e anche in questo caso è stata fatta un'azione di coinvolgimento del privato e quindi abbiamo avuto questa disponibilità rara perché spesso appunto i luoghi non sono visitabili e di grande effetto per il pubblico e quindi i visitatori sono stati tantissimi e quindi anche il recepire l'opera d'arte è stato più facile perché il luogo stesso accoglieva sia l'opera che il visitatore.